mamma ciao sarino mi sa che stai diventando troppo sedentaria per questo d'oggi di voi ogni pomeriggio faremo un workout vieni vai partiamo con qualcosa di facile facile eh? si si 20 jumping jack quanti? 20 1 2 3 mamma oddio 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 aspetta mamma aspetta mamma come ti senti? eh troppo fatica questa quarantena voglio tornare a lavorare aiuto arrivo vado a cercare soccorsi oddio oddio non c'è nessuno bisogna che mi aiuti a tirarmi su aiuto non c'è nessuno ciao 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 ciao